Sembra strano, ma la mamma la parte un'iniziativa alquanto robusta perché questo patrimonio culturale, questo patrimonio ambientale possa divenire patrimonio dell'umanità. Ma non è cosa di poco conto, oppure uno dei solici argomenti che di tanto in tanto la stampa propone alla nostra attenzione. La Calabria e il Parco d'Aspromonte hanno superato sfide di non poco conto, quelle delle grandi montagne, il Gran Sasso e altre realtà ambientali della stessa portata. Avendo ormai questa candidatura, il Parco nazionale d'Aspromonte e tutto ciò che ruota intorno a Mammola possono divenire effettivamente bene dell'umanità, un qualcosa che noi dobbiamo salvaguardare, tutelare e difendere per poterlo tramandare ai posteri con la stessa importanza e con la stessa valenza. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ha avviato da alcuni mesi un processo abbastanza importante per tutto il territorio. Noi siamo convinti sia molto importante il riconoscimento del Parco dell'Aspromonte come geoparco all'interno della rete mondiale, una rete internazionale, cioè la rete dei geoparco dell'UNESCO. Si tratta di un riconoscimento che chiaramente avviene a livello mondiale, l'UNESCO è un'organizzazione delle Nazioni Unite. Abbiamo creduto in questo processo, in questo momento abbiamo inviato la nostra candidatura, questa commissione internazionale la sta valutando e noi ci auguriamo di poter presto annunciare l'ingresso del Parco dell'Aspromonte all'interno di questa rete internazionale. L'obiettivo è quello della valorizzazione dal punto di vista geologico del nostro territorio, del territorio di Mammola, dell'intero territorio del Parco nazionale. Quando parliamo di scoperte e di valorizzazione geologica evidentemente parliamo non solo di un sito importante per Mammola come il geoparco Macariace che ha già rappresentato storicamente un sito di grande valore anche per le opportunità di lavoro che ha offerto a metà degli anni 50 dello scorso secolo, ma parliamo anche di quella striscia di terra che va dallo sciarapotamo al torbido e che è ricco di risorsa geologica con un fondo valle carico di storia, carico di rocce, di lapide e quindi con le sue colorazioni che veramente danno un'impronta ed una valenza geologica a questo territorio di straordinario valore. La presenza di Bombino e quindi del Parco vuole anche rimarcare un rapporto di collaborazione tra gli enti, un rapporto di convenzione che già esiste da anni e che comunque mira nella progettualità a fare crescere appunto un territorio come quello di Mammola. Un plauso a questa iniziativa dell'ente Parco, oggi sono a Mammola come tappa per presentare questa candidatura all'UNESCO. Naturalmente Mammola con il suo ricco patrimonio culturale, geomorfologico e anche religioso, si presta a dare il suo contributo non indifferente per questa iniziativa. È una candidatura d'ordine mondiale come la parola stessa suggerisce e quindi stiamo facendo degli incontri con la comunità poiché questo processo è un processo trasversale che coinvolge in primis le comunità appunto le quali dovranno sempre più prendere consapevolezza del patrimonio geologico e non solo che insiste sui loro territori e quindi adottare atteggiamenti e comportamenti che sono finalizzati alla valorizzazione del medesimo. Ci troviamo qui nella vallata del Torbido che è un territorio eletto proprio per sostenere questa candidatura tant'è che gran parte del dossier che abbiamo consegnato sia alla Commissione nazionale ma che fra qualche giorno sarà consegnato alla Commissione internazionale contiene riferimenti espliciti, potenti, alti che sono proprio riferiti alla geologia e alla geomorfologia di questa valle così affascinante e così ricca e dunque il territorio di Mammola ma diciamo più in generale della vallata del Torbido costituisce un elemento cardine della candidatura del Parco Nazionale d'Aspromonte che potrebbe avere il suo esito speriamo positivo entro l'estate prossima. È un percorso articolato, estremamente complesso sul quale stiamo imprimendo una grande energia e tanta convinzione e quindi andiamo anche con fiducia a ottenere questo importantissimo risultato.